Sono quattro gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Prato indagati dalla procura per lesioni aggravate, abuso d'ufficio, omissioni datti d'ufficio, calunnia e falso. I quattro sono finiti nei guai dopo la denuncia presentata da un detenuto marocchino di 43 anni che ha raccontato di aver subito un pestaggio dopo essere stato scoperto in possesso di un registratore apparecchio vietato in cella. Lo scrive oggi il quotidiano La Repubblica. L'uomo difeso dall'avvocato Fabio Anselmo, lo stesso che assiste i familiari di Fabio Cucchi e di Riccardo Magherini, è stato trasferito in un altro carcere. I fatti risalgono alla primavera di tre anni fa. Gli agenti denunciarono il detenuto per resistenza a pubblico ufficiale spiegando di essere stati aggrediti dopo aver trovato l'uomo con una forbicina, versioni contrastanti su cui i sostituti Laura Canovai e Lorenzo Gestri stanno indagando con una serie di accertamenti. Il marocchino che si muove su una sedia a rotelle sta scontando nove anni e quattro mesi di carcere per violenza sessuale. Sul suo conto penderebbero anche diverse denunce collezionate nel tempo per resistenza a pubblico ufficiale, la stessa accusa che gli è stata mossa dagli agenti finiti poi sul registro.